buongiorno sono andrà codazzi responsabile vendita italia per i servizi alle flotte continente al video oggi vi parlo dell'ecosistema videoflit un insieme di servizi innovativi interconnessi proposte con diverse modalità as a service noleggio o acquisto per chi vuole accedere benefici fiscali previsti l'ecosistema videoflit è stato scelto da oltre 6.000 clienti in italia ed è oggi la piattaforma utilizzata dall'ispettorato nazionale del lavoro durante i controlli in azienda fra i moduli principali ci sono tachograph management per la gestione analisi dei file tachigrafici il fleet management per la gestione completa della flotta dalla geolocalizzazione alla gestione dei dati del veicolo e dell'autista non solo per track ma anche per van trailer e asset le soluzioni ad assai per la sicurezza alla guida come dashcam sensori di fatica e sistemi per l'allevazione dell'angolo cieco la video academy la scuola di alta formazione video per aziende autisti officine e istituzioni perché scegliere video semplice perché siamo gli esperti del tachigrafo nessuno sul mercato può vantare le nostre competenze e proporre un'offerta così affidabile completa contattaci tramite il nostro sito www.vd of fleet e seguici sui nostri canali social www.vd of fleet.com.nfo